Il mio rapporto con la tradizione dell'arte risale a un bel po' di tempo fa. Io ho ammirato soprattutto Klimt, le sue donne, i suoi colori e anche il suo modo ornamentale di dipingere. E nelle mie opere in futuro ho cercato di studiare. Lui usava molto l'oro in foglia e ho sentito la necessità di inserire l'oro anche nelle mie opere. Già dagli anni 90 ho iniziato a inserire la foglia d'oro che è colore ma è un colore spirituale. Perciò va inserito in contesti precisi che danno un senso reale della spiritualità che voglio dare all'opera.